Ciao ragazze, ciao ragazzi, siamo tornati con un nuovo video, questo video è preso palesemente da Chiara Paradisi, non lo dicevamo perché, perché sì, non avevo più risorse e quindi ho copiato. Allora, siamo qua perché appunto Sharon ci dovrà fare le domande, ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Io faccio io, ho faccio io. Qual è il mio pokemon preferito? Mew? No. No. Charmander si dice. Gyarados? va bene e qual è il tuo pokemon preferito saron ok comunque non fai niente vai seconda domanda questa erano aspettata qual è il mio colore preferito rosa viola si viola vero viola un punto per mai qual è il mio animale preferito si anche un altro cane può rispondere anche tu una gatto leone si io piace di lei qual è il mio gioco preferito anche se non lo sai nintendo si anche della nintendo qual è il mio preferito roblox no pokemon un animal crossing un po si minecraft mario kart no dragoball e un po si pokemon 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 no e tra animali così cd got c'era tanta allora vabbè quando si sa che è vincitore si fatti andiamo avanti andiamo avanti allora allora qual è il mio colore preferito ma io vedo 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 ok ok vai continuiamo ehm vedi du du ok vedi du du allora vedi du du non c'è il tuo capelli lisci davanti oggi no qual è la festa mia preferita natale si natale sono tempoli anche noi la mia festa natale anche la tua si mia natale è qua ok la mia festa è qua si ma è da qua è ah difficile ma la natale è qua io quale mi piace quello che prende donald mel 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 si lo prema io no no ti sei confuso non ce la facevi a dirlo non ce la facevi a dirlo la p.m.il a te piace la p.m.il vai vai qualcos'altro non so più come fare dai non so cantante che non è il mio cantante per finito becchi geni giovanni 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 è che non si ricorda è che cosa giovanni è il dragon ball sei giovanni 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 si perché ragazza adesso io amo dragon ball no io c'ho pure pupazzo di giovanni giovanni ma io c'è il dragon ball grande mi piace dragon ball grande mi piace ma mi piace mi piace troppo grande mi piace di più capelli corti lisci o ricci lisci lunghi lunghi sì mamma noi siamo lì lisci no no occhio mamma allora pugno pugno chi preferisco mamma o papà mamma mamma io c'ho la mamma di più mamma ma anche papà ah vabbè proprio papà io c'ho la mamma io c'ho la mamma sì yeah mi piace il coniglio nano o ariete ok ora tocca che devono indovinare io me ma io ma io qual è il mio cibo preferito ah 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 yeah questo è facile lasagna sushi eh se la battono però lasagna ma io c'è il sushi sushi a lei piace il sushi il mio colore preferito rosa rosa yeah cantante eh maria becerra no no Anna Mena no no Becky G no volevo andare al concerto come ero incinta di te non mi sai Rose ok eh fatemi pensare bevanda preferita della mamma te per la pesca eh ce la dovevi essere così precisa mamma non ti piace anche eh mamma non ti piace anche qual è il mio pokemon preferito Slowbro Vaporeon Vaporeon Slowbro Slowpoke non Slowbro ah non ti piace Slowbro? sì anche e? ce n'è un altro? aspetta aspetta Mio tu no Mio tu basta Mio tu no e Ivy fa parte di Ivy no 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 ok Cianelle mmm Cocco bello Cocco bello Cocco bello va bene non mi viene più in mente niente il video è finito no no adesso tocca a papà no io no grazie io sì ok la papà io com'è 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 qual è il cibo preferito di Cianelle? Basta Sushi non sta al sugo mi piace Sushi ti piace Sushi? sì non sta al sugo va bene ragazzi ragazzi questo video è finito sì spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao dove è Cianelle? ciao